Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa del mattino, occhio ai giornali, il commento del mattino con il consueto alle 7 siamo in diretta, poi naturalmente ci sono le repliche salutiamo tutti quelli che ci seguono anche durante il corso della giornata e naturalmente anche da occhionanotizia.it che è il nostro sito di informazione. Partiamo dal santo ma oggi è il giorno degli angeli custodi quindi diciamo grazie a questi esseri spirituali che ci seguono sempre e ci proteggono sempre. Il sole sorgerà alle 7.06 e tramonterà alle 18.48. Come sarà il tempo oggi? Andiamo a vedere subito dal sito della protezione civile delle Marche, attenzione ai fenomeni di foschie nei fondovalli a quest'ora all'inizio del giorno ma anche dopo il tramonto, per il resto cielo sereno poco ruvoloso, così anche domani vedete ancora le nebbie, poi pioggia invece lunedì 4, lunedì 4 ottobre, brevi piovaschi nelle zone collinarie montane e sparsi ovunque nel corso del pomeriggio, tempo instabile anche nella giornata di martedì, soprattutto mercoledì con probabili piogge diffuse, poi miglioramento. Iniziamo dai giornali, vediamo subito il Corriere Adriatico, edizione di Pesero, pass e asili, quindi certificato verde e asili, tutti controllori, l'amministrazione individua, le figure preposte, l'amministrazione quella di Pesero ovviamente, delegati, i dipendenti che sono in servizio stabile, coinvolto personale educativo e ausiliario anche in forza alle cooperative, controproposta dei sindacati, insomma più che entrare negli asili sembrerà di entrare in qualche caserma, in qualche caserma dell'esercito, forse di più nella NASA, rifiuti la politica alle sue colpe, l'assessore Aguzzi sul piano d'ambito, mentre prenotazioni da lunedì per gli over 80 e nelle RSA, parliamo della terza dose, ve la faccio vedere subito, guardate cosa dice Garattini a proposito della terza dose, la detta fuori dal coro, rete 4, la terza dose non è uno contro i vaccini ovviamente, è uno che è strafavorevole ai vaccini, farmacologo, la terza dose fa comodo alle case farmaceutiche, e ho detto tutto. Torniamo sulla prima pagina allora, ragazzini in fuga, la cronaca, ragazzini in fuga, appello della madre, perdonami, torna, mentre un sedicenne si aggira al pincio di Fano impugnando un coltello a Serramanico, a Pesero, Muraglia, il cantiere riserva più sorprese con dei nuovi reperti, lo sport con la Serie C, Vis, Fermana, derby che vale contro Riolfo, l'ex tecnico al Benelli, e poi Vasco Rossi che torna in tour allo stadio del Conero di Ancona. Andiamo invece sul Carlino di Pesero, la fotonotizia è per questa foto durante un confronto fra un gruppo di ragazzi e l'assessore Mila della Dora, non è una città, riferendosi ovviamente alla città di Pesero, non è una città per giovani, under 35 a confronto con il Comune, ecco le critiche. Quartieri sfida per 100 mila euro, fondi per finanziare le idee migliori che arrivano dalla gente, ecco quali sono i progetti presentati. Poi la situazione di Piccoli che è finito in terapia intensiva, le condizioni sono stabili, gravi ma stabili, Forza Marco siamo con te, dopo il malore in casa, e poi sulla terza dose da lunedì scattano le prenotazioni per gli over 80, insulti social, Ricci è cominciato il primo processo ai cosiddetti odiatori, e poi da Fano invece rifiuti, Seri contro Paolini, è mancata la regia, a frontone siamo senza medico di base, l'appello del sindaco. Calcio, Vis, c'è il derby con la Fermana e vale già tanto, oggi al Benelli il match con i Canarini, in attacco ballottaggio di Respignis e Cannavò. Poi il basket, Larson mette nuove energie nel motore della VL, primo allenamento dopo le visite mediche, lunedì chiude la campagna abbonamenti. Uno sguardo anche al Carlino di Ancona, abbiamo detto, abbiamo citato poco fa Vasco Rossi, allora la fotonotizia del giornale, il ritorno del Blasco dopo 11 anni, Vasco Rossi sarà allo stadio del Conero il 26 di giugno, poi picchiato a scuola dal baby bullo, Loreto, il 15enne affetto da disturbi di apprendimento, è finito nel mirino di un compagno di classe che ora ha paura. Questa invece è la pagina 7 del Carlino di Pesaro, piccoli ricoverati e rianimazione, forza Marco, siamo tutti con te, lo storico tifoso della VL in condizioni gravi ma stabili dopo il malore di giovedì sera, tanti messaggi a Rio Costa, dice ti siamo vicini, non sei il tipo che si arrende, io ti aspetto. Poi invece la morte, il lutto per la morte di Cecilia Ripanti, malattia fatale, aveva 46 anni. Un centauro invece che è finito all'ospedale e in gravi condizioni dopo lo schianto, il 29enne pesarese che si è scontrato con la Opel Zafira sulla statale all'altezza di via Caprile, intorno alle 19 e 15 e poi fuga di gas, paura in centro in via Castelfidardo. Ragazzina in fuga, la madre chiede perdono, dice torna, un drammatico appello in tv dopo la scomparsa, le indagini portano fuori provincia, lei ha detto ti chiedo perdono però torna a casa, possiamo aggiustare tutto, si tratta di una ragazzina di 14 anni di origini algerine che ha fatto perdere le proprie tracce a metà del mese scorso allontanandosi dalla comunità per minore che la stava ospitando a Fano e poi recuperata, c'è anche un video che sta girando, la carcassa di un cinghiale nella zona palla a Pesaro nella zona mare finita contro gli scogli dopo le ultime mareggiate. Odio social contro Ricci, si apre l'udienza e non sarà l'unico hater davanti al giudice, hater sono quelli che appunto di mestiere fanno gli odiatori sociali, scrivono cose brutte attraverso la rete nei confronti delle persone eccetera eccetera, quindi ognuno ha il suo. Ragazzo impugna un coltello tra gli amici presenti al Pincio, invece la notizia di cronaca sulla pagina di Fano, notato e denunciato dalla polizia durante una perlustrazione, una quattordicenne invece che era lì nel gruppo fumava marijuana. Mentre sotto posti autoristretti per la ricarica elettrica, sempre da Fano, limitazione alla centralina, Enel X presso lo Sportpark e divieto di sosta oscurato. Sulla pagina 17 invece di Fano del Carlino, rifiuti, la questione dei rifiuti, seri contro Paolini, regia assente, il Presidente della provincia non ha il comando della situazione, mascarin parla di problema di governance che segnaliamo da tempo. E poi sotto invece vedete la fotografia di Paolo Chiarucci, un imprenditore che non c'è più, a lungo ha guidato la pergolese calcio, lascia la moglie Rita e il figlio Andrea, i funerali si terranno lunedì pomeriggio alle ore 16 al Duomo di Pergola, se n'è andato dopo una breve malattia e si è spento ieri mattina all'ospedale di Pesaro a 65 anni. Salviamo l'Arzilla, 500 firme in tre giorni, l'Arzilla è a Fano, pista, il popolo della bici contro il taglio degli alberi e la costruzione del muro lungo il torrente, modificare il progetto prima che aprano il cantiere. E poi anche il Carlino pubblica la notizia di questo ragazzino di 16 anni che è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato con un coltello, l'amica invece fumava spinelli. Da Urbino anche lì la situazione, soprattutto il giovedì sera, una situazione calda dove c'è una movida, quella studentesca che continua a scalpitare, a fare chiasso, almeno così dicono. Due interventi per schiamazzi, il coprifuoco senza emergenze, giovedì la Polizia ha tacitato giovani chiassosi, ieri sera la chiusura dei locali alle 1.30. Invece oggi la festa di fine estate per i bambini di tutte le età dalle 16.30 nel cortile del collegio Raffaello. Per invece le amministrative, per il sindaco Feduzzi, il duello con Betonica. Nel 2016 a Fermignano le liste erano 5, l'incognita sulla ridistribuzione dei voti. Allora a proposito di amministrative, ricordiamo che domenica e lunedì prossimi si vota e quindi si vota in diversi comuni della città marchigiane, 7 in provincia di Peso Urbino. Allora vediamo che cosa scrivono i giornali questa mattina. Dalla Valmetauro del Corriere, una contesa elettrizzante a 4 per dare la sveglia a Fossombrone. L'assessore uscente May punta al ruolo di sindaca ma nella corsa incontra Berloni, Londè e Cipriani. Vedete le fotografie con i rispettivi nomi sotto la didascalia e l'articolo che spiega un po' anche quelli che sono i programmi in sintesi dei quattro aspiranti alla poltrona di primo cittadino. Andiamo invece sulla Val Cesano, il centro-sinistra riunito, sfida il civismo del governatore locale. Qui invece la sfida a Mondolfo è tra Nicola Barbieri e Anteo Bonacorsi. Il sindaco Barbieri ci riprova e sulla strada trova il socialista Bonacorsi. E questa è la pagina 24 del Corriere Adriatico. Poi addio allo storico presidente della Pergolese Paolo Chiarucci, si è spento 64 anni per un male calcio in lutto, lunedì il funerale. A bordo strada invece un porcino che pesa 750 grammi. Ecco qui la fotografia, rinvenimento casuale durante una passeggiata a Serra Sant'Abbondio. Mentre c'è questa pagina che ho segnalato questa mattina, pagina 9 del Corriere Adriatico, noi ce ne siamo occupati nel nostro telegiornale qualche sera fa, tra l'altro un video che è ancora disponibile, che potete vedere e che sta avendo un enorme successo. Si tratta di questa decisione di un'imprenditrice di Pesaro, Arianna Costarelli, dell'azienda Pesaro Ascensore, che ha deciso di pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati. E lei dice che non lo si fa per cercare pubblicità, semmai per solidarietà, per fratellanza, per reciprocità, per la consapevolezza di quanto siano importanti per l'impresa i nostri collaboratori. Ci piace, dice ancora, lavorare con loro, quindi siamo attenti alle loro necessità. È evidente che chi ha una busta paga, come dire, normale, dovrà affrontare una spesa rilevante a partire dal 15 ottobre prossimo, quella dei tamponi per la certificazione verde, qualora decida appunto di non vaccinarsi. Di conseguenza, dice la titolare, gli si dà una mano. Qui ci si aiuta tutti senza distinguere fra titolari o dipendenti e senza giudicare le scelte altrui. Ognuno è libero di fare le proprie scelte e deve essere rispettato. Pagare il tampone ai collaboratori è una cosa per me normale, conclude Costarelli. A maggior ragione, dopo quasi due anni di difficoltà enormi, mentre ritengo che l'obbligo della certificazione nei luoghi di lavoro sia discriminante. La compressione di un diritto fondamentale. E poi continuo all'articolo che pubblica questa mattina il Corriere Adriatico. Sono parole che chiaramente rincuorano perché tutto il resto davvero è di una tristezza unica. I camper vaccinali raddoppiano in programma anche tappe a fiere, sagre e luoghi della Movida. L'area vasta 1 ha messo in campo, metterà in campo già da oggi, un altro mezzo. Oggi per esempio sabato 2 ottobre sarà a Durbino, presso il collegio Raffaello in Piazza della Repubblica in occasione della festa di fine estate. Domani, domenica 3 ottobre, invece sarà a Gradara in occasione dell'evento. L'utente che vorrà vaccinarsi dovrà presentarsi nella finestra temporale indicata in fase di prima somministrazione, munito del documento attestante la prima vaccinazione e la tessera sanitaria. Questo invece, no, l'abbiamo già visto. Andiamo sulla pagina di Senigallia. Allora, Senigallia pronti a demolire il ponte Garibaldi, questo è il titolo d'apertura. Regione ok al Comune però la ricostruzione, l'annuncio dell'assessore Aguzzi. Intanto a breve partirà l'escavo di un tratto cittadino del Misa. Questa è la foto del ponte Garibaldi a Senigallia. Mentre sotto, la Cassazione dà ragione al seminario Vescovile accoglie il ricorso contro autostrade, verranno rivalutati gli indennizi degli espropri. Da Senigallia invece il Carlino Caos Pediatri, poliambulatorio preso d'assalto. Due storiche dottoresse sono andate in pensione ed è scattata dunque la corsa per iscrivere i piccoli pazienti. Anche Clarita Costarelli è ai saluti. Clarita Costarelli, che vedete in questa fotografia, per 40 anni si è presa cura di generazioni di bambini. Poi la cronaca di qui, una breve da Ostra, bimbo di 8 anni investito in centro, è stato portato al Salesi, l'incidente è accaduto intorno alle 17. Anche qua vedete, è sproprio autostrade, dovrà pagare oltre 240 mila euro al seminario. Erano stati versati 41 euro al metro quadrato, ma ora la Cassazione ha stimato praticamente il doppio del valore. Da Porto Sant'Elpidio abusi sessuali su una ragazzina arrestato. L'uomo maceratese di 36 anni aveva intrattenuto una relazione con la mamma della 13enne, trovati anche video e foto. A casa dell'indagato è stato trovato diverso materiale informatico, finito adesso sotto sequestro. E con questo direi che possiamo chiudere qui il nostro appuntamento con l'informazione. Torneremo questa sera ovviamente alle 20 e 30 con il magazine che raccoglie e raggruppa le notizie più importanti della settimana. Noi ci rivedremo invece l'undi mattina, come sempre alle 7. Buon fine settimana a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.